Fare questo effetto su Photoshop grazie a dei vari comandi e soprattutto scaricare un'immagine e fare la sovrapposizione del testo, di qualsiasi testo che tu vuoi e applicarlo in questo modo. Quindi ovviamente chiudo un attimo questa immagine, ho scaricato così questo sfondo blu, quindi scrivendo wallpaper blu, ho scaricato così questo sfondo, questo è lo sfondo blu, immagine, dimensione immagini 1920x1980 e fai ok. Una volta realizzato così, andiamo a mettere, a sproccare così questa immagine dello sfondo blu, vai a scrivere un testo qualsiasi, io scrivo di nuovo pro, eccola qua, un po' più grande, prendo pure l'immagine dello sparatutto, eccola qua, Faccio in modo di compagere così le immagini, ecco, ed eccola qua. I livelli devono stare in questo modo, una volta fatto, se tu adesso vai a cliccare su questa immagine dello sparatutto, qualsiasi immagine che hai messo qua sopra come il tuo livello, fai CTRL ALT più G. Ed ecco che esce fuori questo effetto. Però come avete visto, c'è la canna dell'arma che fa la sovrapposizione, quindi è sopra al testo, quindi per fare questo, clicca sempre su questa immagine, il primo livello qua sopra, e fai CTRL J, eccola qua. Ora, lavoriamo così su questa immagine, quindi io prendo un lazo, cerco di fare, di selezionare così la canna manualmente. Ecco, in questo modo, non devo prendere pure il merino, quindi faccio così. Prendo anche la parte sotto, ed eccola qua, fatto. Una volta applicato, non ti resta che premere qua sotto, aggiungere una maschera di livello, ed ecco che è uscito fuori l'effetto pro, con l'arma, la canna che fa la sovrapposizione a testa, e il resto dell'arma che sta sotto al testo, una volta fatto, non ti resta che fare esporta, esporta come, jpg, e hai fatto, ed ecco così il tuo sfondo. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come applicare e realizzare così questo effetto su Photoshop, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!